Abbiamo voluto fare una scelta come Campania, utilizzare una parte dei fondi europei che sono il Fondo Sociale Europeo, 100 milioni di euro, questo è chiaramente l'inizio della prima esperienza dell'impegno di 65 milioni di euro, ce ne saranno degli altri, rivolti a chi? Chi ha più bisogno? Abbiamo fatti questa domanda, siamo diventati anche noi e solamente un'altra regione meridionale, la Sicilia, abbiamo voluto utilizzare subito questo strumento, quindi 100 milioni di euro destinati a chi ha più bisogno, chi ha più bisogno oggi, chi non può andare in banca a chiedere un piccolo credito per la propria attività professionale, per la propria buona idea, per la propria cooperativa, per la propria piccola impresa, perché parliamo chiaramente di micro impresa, e sono quelle risorse che vanno fino a 25 mila euro, a tasso zero, con un sistema di rientro molto graduale, molto molto facile e molto accessibile. Le persone che hanno questo bisogno, che vogliono fare appunto attività, e sono tantissime, noi abbiamo avuto circa 6 mila domande, quindi lasciate immaginare che attesa c'è, però non possono andare in banca perché non hanno nulla da poter dare, né una garanzia patrimoniale, né immobiliare, sappiamo com'è la situazione del credito oggi qui da noi, e quindi ci è sembrato dare questo segnale di ossigeno. Con una selezione, chiaramente, vengono selezionate le migliori idee, le migliori condizioni, e oggi siamo qua a raccogliere la loro testimonianza, farci capire bene cosa è successo, se hanno avuto un aiuto vero e reale, ma dalle primi colloqui, dalle primi confronti che abbiamo avuto, questo ha avuto una grande risposta, quindi questo è un ottimo strumento. Stiamo lavorando in silenzio, con grande attenzione, con proposte concrete che guardano anche a quelli che sono indietro, guardano le difficoltà, e oggi abbiamo una bella giornata non solo perché c'è il sole, non solo perché comincia la primavera, ma anche perché centinaia di persone hanno partecipato solo tre mesi fa ad una misura, e in ordine cronologico sono le prime centinaia di persone che vedono premiato la loro proposta, una proposta che non aveva nient'altro, né garanzie, né crediti, né altre cose, se non la qualità delle idee. Sono stati scelti per questo, sono i primi, di un ragionamento complessivo, che è quello che aiuta e vuole aiutare chi è indietro, chi è in difficoltà, chi però ha anche il coraggio di mettersi in gioco, di lanciare un'idea, di avere qualità e competenza, quella di cui abbiamo bisogno tutti, nelle istituzioni, nella vita, nell'azione di ogni giorno.